Ancora sangue nel napoletano, un morte e un ferito, sparatoria in pieno giorno a Marano, nei pressi del mercato ortofrutticolo, nell'agguato muore il figlio ferito e il padre, carabinieri a caccia dei killer. Soldi, baci e cornetti per i certificati in comune, sospesi due impiegati a Napoli, ricattavano gli extracomunitari per pratiche che invece erano dovute, una donna vittima anche di molesti sessuali, i due incastrati da un video. Elezioni, parte la corsa dei candidati, scaduto alle 12 il termine per la presentazione delle liste per le amministrative del 5 giugno. A Napoli, Valente, Lettieri e Brambilla sfidano De Magistris. A Salerno, 10 candidati a sindaco, 7 a Benevento. Consiglio regionale, Iannasce sospeso, scatta la Severino per il medico condannato a 6 anni per peculato. Firmato da Palazzo Chigi il decreto per il consigliere regionale della lista De Luca Presidente. In consiglio entra Todisco del PD. La morte di Antonio si indaga per omicidio volontario. Nuovi sviluppi nell'indagine sulla rete di pedofili al Parco Verde di Caivano. Cambiata l'ipotesi di reato nell'inchiesta sulla tragedia del piccolo che precipitò dal palazzo in cui è stata poi uccisa a fortuna. Avellino e Salernitana oggi sfide salvezza. Biancoverdi contro il Como alla ricerca della vittoria per chiudere oggi il campionato. Granata all'assalto del Modena in uno spareggio decisivo per restare in B. Alle 17 il post partita in diretta con Offside. Erano i titoli di oggi ben ritrovati. In apertura ancora sangue nel napoletano. Sparatoria a Marano nei pressi del mercato. Ortofrutticolo. Quattro colpi d'arma da fuoco esplosi in una auto-officina in via Unione Sovietica. Gli spari hanno colpito Giuseppe e Fabio Esposito, rispettivamente padre e figlio e titolari dell'officina. Fabio, trentenne, è morto e suo padre Giuseppe, 57 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Giuliano sul posto ai carabinieri della locale tenenza. Ancora cronaca, pretendevano dagli extracomunitari consumazioni al bar in cambio del rilascio di documenti. Sono stati sospesi due dipendenti comunali di Napoli accusati di concussione e violenza sessuale. Paola Iandolo. Caffè, cornetti e bibite pagate al bar in cambio del rilascio di documenti. I carabinieri di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sospensione dal lavoro nei confronti di due impiegati comunali al Comune di Napoli, ritenuti responsabili a vario titolo di concussione e violenza sessuale, tentata truffa aggravata e induzione in debita a dare o promettere utilità. I due dipendenti sono stati incastrati dalle telecamere e posizionati nei loro uffici grazie alla denuncia di uno degli immigrati che racconta quanto avveniva negli uffici servizi demografici della prima municipalità di Napoli. Nel corso delle indagini effettuate tra giugno e agosto del 2015 e coordinate dalla procura partenopea, i militari dell'arma hanno accertato che i due indagati avevano costretto o indotto cittadini extracomunitari, sempre e solo quelli ma italiani, a offrire consumazioni al bar o pagare somme di denaro di varie entità per il rilascio dovuto di documenti, nonché era girato uno straniero rappresentandogli la necessità di corrispondere del denaro per l'acquisto di Marche d'Abollo. In uno dei casi, inoltre, uno degli indagati aveva costretto una donna a subire abbraccio e un bacio, nonostante il rifiuto e i tentativi della donna di respingere il molestatore. Apriamo adesso un'ampia pagina dedicata alla presentazione delle candidature per le amministrative, cominciamo da Napoli, il sindaco uscente De Magistris si ricandida, adesso è ufficiale, vediamo chi è pronto a sfidarlo. Parte la corsa verso il voto del 5 giugno, adesso è ufficiale a Napoli a sfidare il sindaco uscente Luigi De Magistris che ha rastrellato l'appoggio di 14 liste, ci sono altri otto candidati salvo sorprese. A battere tutti sul tempo sono stati gli esponenti del Movimento 5 Stelle che per primi hanno presentato la lista. Il candidato sindaco è l'ingegnere Matteo Brambilla, brianzolo residente da anni a Napoli. Ci riprova a distanza di cinque anni Gianni Lettieri che del suo profilo di candidato sindaco dice testa da imprenditore, cuore da scugnizzo. Ha trovato in extremis anche l'accordo con Enzo Rivellini di Napoli Capitale che ha ritirato la sua candidatura. Niente da fare invece con Fratelli d'Italia che ha confermato la candidatura a sindaco del deputato Marcello Taglialatela. Il centrosinistra si è affidato alla parlamentare renziana Valeria Valente, un passato da assessore comunale con l'aggiunta Iervolino e in lista Antonio Borriello del PD ripreso nei video di Fanpage, mentre all'esterno di uno dei seggi per le primarie dava un euro a un elettore per far votare la Valente. La commissione di garanzia del PD provinciale ha poi archiviato la sua posizione. Confermato il sostegno di NCD alla candidata del centrosinistra, mentre i Verdi lasciano l'alleanza e si schierano con il sindaco uscente De Magistris. Nelle liste prevale il civismo, ma a Napoli il voto è un test politico. A completare il quadro dei candidati alla carica di sindaco ci sono Nunzia Amura, operaia della Lenia per il Partito Comunista, Domenico Esposito, qualità della vita per Napoli, Raffaele Bruno del Movimento Idea Sociale e Luigi Mercogliano, sindacalista della Cisle che si candida a sindaco con il popolo della famiglia. Dieci invece le aspiranti fasce tricolori che si contenderanno la guida di Palazzo di Città a Salerno a sfidare l'uscente Napoli, un centrodestra diviso ed una variegata compagine civica, obiettivo dichiarato per tutte le opposizioni arrivare al ballottaggio. Una lunga rincorsa avviata da tempo ma che si ufficializza oggi. A Salerno, come erano le previsioni, sono 10 gli aspiranti sindaci che saranno presenti sulla scheda elettorale. In totale ben 23 le liste fra cui i salernitani saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza, un vero e proprio esercito, numeri alla mano, di oltre 700 candidati alla carica di consigliere. Ecco i magnifici 10 in corsa per la fascia tricolore. Enzo Napoli, Gianpaolo Lambiase, Roberto Celano, Antonio Cammarota, Raffaele Adinolfi, Dante Santoro, Gianluigi Cassandra, Antonio Iannone, Giuseppe Amoddio e Marco Falvella. A sostegno, come detto, ben 23 liste per oltre 700 candidati. Un vero e proprio esercito, del resto a farla da padrona è stata la frammentazione. E andiamo a vedere nel dettaglio. Con l'uscente Vincenzo Napoli ci sono sei compagini fra conferme e new entry. Segue, per numero di liste a sostegno, Roberto Celano con 4. L'outsider Dante Santoro, il più giovane dei candidati in campo, si presenta con ben tre liste. L'avvocato Antonio Cammarota, Raffaele Adinolfi e Gianluigi Cassandra hanno invece formalizzato due compagini. Una invece la lista per Antonio Iannone, Giuseppe Amoddio, Gianpaolo Lambiase e Marco Falvella. Il primo cittadino in carica va dunque alla ricerca della conferma dopo aver preso il posto dell'attuale governatore Vincenzo De Luca. A contendergli lo sceltro una variegata componente fatta di civismo e partiti di centrodestra che si presentano però divisi agli elettori della città. Non a caso l'obiettivo dichiarato di tutti gli sfidanti è arrivare al ballottaggio e riuscire lì, magari con quell'unità che finora non è stata possibile, a provare la scalata a Palazzo di Città. E si voterà il 5 giugno anche a Benevento. Qui sono sette i candidati. A mezzogiorno è scaduto anche nel capoluogo Sannita il termine per la presentazione delle liste. Del Vecchio ne hanno opera sette di liste a suo supporto. Quattro invece quelle che sostengono. Clemente Mastella. È ufficiale. Per la poltrona di inquilino di Palazzo Mosti a Benevento correranno in sette. Tre in meno rispetto a cinque anni fa, a fronte nel 2011, di un numero maggiore di liste in campo, ben 22. Sedici invece gli schieramenti depositati in comune per questo turno di amministrative nel capoluogo Sannita. Poco meno della metà afferiscono alla coalizione a sostegno del candidato del partito democratico Raffaele Del Vecchio, che dalla sua avrà il sostegno ufficiale di alcuni partiti, Nuovo Centrodestra e Italia dei Valori. Oltre alla lista con l'ulivo del PD, in campo anche i democratici di Lealtà per Benevento, con capolista l'attuale sindaco Fausto Pepe e cinque tra assessori e consiglieri uscenti. Quattro le liste a supporto di Clemente Mastella, tra cui quelle di Forza Italia e Udc, più due civiche recanti il nome dell'ex guardasigilli. Lista unica per il Movimento 5 Stelle, con Marianna Farese candidata a portavoce per i pentastellati. Quattro invece le aspiranti fasce tricolori, espressione pura del civismo. Federica De Nigris con la lista Fa Bene, Vittoria Principe a capo di Sfidiamoli, Benevento Polo Civico con Raffaele Tibaldi, candidato sindaco, e Gianfranco Ucci con La Città di Tutti. Il titolare di un'impresa di noleggio di imbarcazioni, Ciro Muro, 56 anni, è morto a Mergellina dopo essere stato colto da un malore. Secondo una prima ricostruzione della polizia, Muro, che era titolare dell'impresa di noleggio e imbarcazioni, Il Pontile, era a bordo di un'imbarcazione insieme ad un figlio e si accingeva a recarsi a pesca nelle acque di Mergellina quando è stato colto da un malore. Sul posto è stata fatta giungere un'ambulanza del 118, i medici però hanno potuto solo constatare la morte del 56enne per arresto cardiocircolatorio causato da un infarto. Nuovo fascicolo in procura per la morte della piccola Fortuna Loffredo, ora si indaga per omicidio volontario per la morte del piccolo Antonio Giglio, precipitato come chicca dalla finestra del palazzo del Parco Verde di Caivano. Antonio Giglio non è caduto dalla finestra accidentalmente, ma è stato ammazzato. Qualcuno lo ha lanciato dopo aver abusato di lui. L'indagine sulla morte della piccola Fortuna Loffredo di Caivano va avanti e in procura arriva un nuovo fascicolo, quello per omicidio volontario per la morte del piccolo di 4 anni avvenuta nell'aprile del 2013. All'epoca il caso fu archiviato come incidente. La mamma del bambino, Mariana Fabozzi, ora in carcere accusata anche lei della morte di Chicca, dichiarò che il piccolo Antonio si era sporto un po' troppo dalla finestra per guardare l'elicottero che sorvolava su Caivano e che poi è precipitato nel vuoto. Stessa versione fu data dalla mamma di Mariana e dalla cognata, sorella di Raimundo Caputo, principale indagato per l'omicidio di Fortuna. Però dopo la morte di Chicca e i 5 casi di pedofilia c'è stata una testimonianza. Una donna racconta che la Fabozzi avrebbe spinto il figlio dalla finestra ed è per questo che gli inquirenti ora valutano la possibilità di resumare la salma del piccolo. L'obiettivo è fugare ogni dubbio circa la reale causa della morte. Si indaga per omicidio volontario. Lo scenario nel quale il delitto sarebbe da inquadrare è naturalmente quello degli abusi sessuali su minori. Scattala Severino per il consigliere regionale Carlo Iannace, il medico condannato a 6 anni per peculato. Firmato da Palazzo Chigi il decreto che sospende il consigliere eletto nella lista di Luca Presidente. Al suo posto in consiglio entrerà Francesco Todisco del PD. Sarà notificato nelle prossime ore in regione a Napoli il decreto del governo con cui viene sospeso il consigliere regionale Carlo Iannace, medico eletto nella lista di Luca Presidente che lo scorso 31 marzo era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Avellino a 6 anni di reclusione con le accuse di peculato falso e tentata truffa. Il decreto di sospensione in base alla legge Severino è stato firmato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. Iannace, che dovrebbe restare fuori dall'aula del Consiglio regionale per 18 mesi, ha già preannunciato ricorso al TAR per la sospensione del decreto, ITER che ha già prodotto risultati positivi nei casi De Luca e De Magistris. Nel frattempo il consiglio regionale dovrebbe procedere nella prima seduta utile che sarà convocata dalla Presidente del Consiglio Rosetta D'Amelio all'ingresso in aula al posto di Iannace del primo dei non eletti nella lista irpina De Luca Presidente. Si tratta di Francesco Todisco, ex vice segretario provinciale PD, esponente della sinistra del partito. Ma Iannace non si arrende neppure sul fronte del processo. I suoi legali hanno già presentato ricorso in appello contro la condanna, anche perché lui, direttore della breast unit dell'ospedale Moscati, ha sempre negato ogni accusa, ma per la procura, insieme all'ex primario di chirurgia Caracciolo, avrebbe compiuto una serie di irregolarità. Operazioni estetiche fatte passare per interventi su patologie tumorali al seno, liste d'attesa manipolate e personale paramedico utilizzato per scopi privati. Oltre 20.000 le cartelle cliniche analizzate dalla Guardia di Finanza, che ha riscontrato poi attraverso le testimonianze dei pazienti che molti interventi chirurgici erano stati a spese del Servizio Sanitario Nazionale, senza che vi fossero i requisiti. Nel frattempo Carlo Iannace continua la sua missione. Mercoledì a Taurano, nel Vallo di Lauro, effettuerà visite senologiche, come sempre, gratuite. L'emergenza migranti in Irpinia, con le strutture al collasso, si cercano nuovi locali per ospitare i profughi. Ad Atripalda si pensa. All'ex sede della ASL i cittadini sono perplessi e il comune per ora smentisce. Sul fronte dell'emergenza migranti l'Irpinia è ormai al collasso. Tra centri d'accoglienza chiusi dalla magistratura e improbabili ipotesi tendopoli, le strutture disponibili sono ormai sature. E mentre Carlo Mele, direttore della Caritas, chiede un maggior attivismo, anche alla Chiesa... Oggi stiamo vivendo e stiamo vedendo un commercio. Ad Atripalda fanno discutere le voci di ospitare centinaia di profughi nel palazzo ex ASL di proprietà dell'Inail, in via Tirature. Dico sì, farli venire va bene, l'accoglienza va bene, ma fargli fare pure qualcosa a questa gente. Un po' difficile, eh? Avere 400-500 ragazzi in mezzo alla strada, poi se bisogna metterli ci addetteremo. Il problema non è accoglierli, cioè ricoperarli, metterli su un tetto e integrarli, questo è il problema principale. La struttura è fatisciente, ormai abbandonata da anni e richiederebbe importanti lavori di riqualificazione per garantire agli immigrati condizioni di vita quantomeno dignitose. Loro con tutti i benefici, con tutto quello che hanno, nonostante i loro problemi, per l'amore del cielo, rispettabilissimi, però, però... Il spettacolo che meno condivide è quello di vedere questi giovani inattivi. Non è cosa la tripalta. A parte che là non sono nemmeno adeguate, e là ci manca tutto. Come faranno? Ci vogliano soldi. Noi siamo impreparati. Dall'amministrazione comunale si affrettano a smentire, almeno per ora. Le posso assicurare che fino adesso dalla prefettura non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione, più. Quindi sono voci del tutto infondate fino adesso. Se poi dovesse esserci qualche ordine del signor prefetto, noi come amministrazione siamo tenuti ad onorarlo e a rispettarlo. Erano conservati da tempo in casa, ha aperto il barattolo, ne ha mangiati alcuni e si è sentito subito male. Un sessantenne di Rofrano, in provincia di Salerno, è stato trasportato all'ospedale di Vallo della Lucania dopo aver ingerito broccoli fatti in casa e probabilmente conservati male. L'uomo si trova ora nel reparto di rianimazione e i medici hanno riscontrato una intossicazione da botulino. Contro la camorra non basta l'esercito e la repressione delle forze dell'ordine, quanto sottolineato dal capo della polizia Panza a Napoli il giorno dopo il super vertice con i ministri del governo Renzi. E anche la presidente della commissione antimafia, Rosi Bindi, chiede lavoro e scuole aperte per Napoli. Vediamo. Sul caso Graziano che imbarazza il partito democratico campano non interverrà per ora l'antimafia. Lo ha chiarito a Napoli Rosi Bindi, presidente della commissione antimafia, rispondendo ai cronisti a margine di un convegno. Il partito ha preso le sue decisioni, sono nella sua autonomia, decisioni che io ritengo giuste e non tocca a noi interferire naturalmente. Ma è l'emergenza camorra a tenere banco anche alla luce della strategia annunciata dai tre ministri del governo Renzi che hanno partecipato al vertice in prefettura. La repressione non basta, avverte il capo della polizia, il prefetto Alessandro Pans, che si ritrova nella chiesa dell'arci confraternita dei pellegrini per confrontarsi sull'allarme camorra, diventata ormai questione sociale. Anche Iseia Sales, saggista e politico napoletano, condivide la sua tesi. Non ci basterà un esercito intero per bloccare le nuove leve, bisogna bloccarle in tempo, nei tempi medi e lunghi, attraverso le due cose che in ogni società funzionano per integrare la plebe o le masse sottoproletarie. Le due cose necessarie per integrare sono scuola e lavoro, scuola e lavoro, scuola e lavoro. Liberare il sud dall'assedio di camorra e mafia è questa la sfida più importante da giocare secondo Rosi Bindi e il governo in questa fase di emergenza segue con particolare attenzione il caso Napoli. Questa città ha bisogno di sicurezza, ma ha bisogno anche di lavoro, ha bisogno di crescita, ha bisogno di scuole, ha bisogno di ospedali, quindi se la presenza dei ministri è per testimoniare ma anche per dare attuazione all'impegno del governo che non invertirà in poco tempo i problemi di questa città. Però se questa città viene adottata, come il resto ritengo tutto il mezzogiorno, sicuramente ne avremo dei vantaggi. Il ministro della giustizia Andrea Orlando ha annunciato la costruzione di un nuovo carcere a Nola da 1200 posti. Si tratterebbe del terzo penitenziario in Campania per numero di detenuti dopo Poggio Reale e Secondigliano. Il sindaco di Nola, Biancardi, avverte progetto fattibile solo se non crea disagi alla comunità. Rocco, fatti bene. Un nuovo carcere da 1200 posti nel territorio di Nola. L'ho annunciato il ministro della giustizia Andrea Orlando nel corso del vertice sulla sicurezza presso la prefettura di Napoli, cui hanno preso parte anche il ministro dell'interno Angelino Alfano e il ministro dell'istruzione Stefano Giannini. Orlando ha riferito del problema sicurezza in Campania tra le soluzioni adotte per agevolare il lavoro giudiziario. Ha parlato del nuovo penitenziario Nolano. Si tratterebbe del terzo istituto di pena in regione per numero di detenuti dopo Poggio Reale e Secondigliano. Il progetto è inserito già da diversi anni nel piano carceri, ma stavolta, dopo le dichiarazioni del ministro, sembra sia finalmente in dirittura d'arrivo. L'amministrazione comunale di Nola seguirà da vicino l'iter assicurandosi che il nuovo carcere non provochi problemi al tessuto sociale. È un'area che è lontana dal centro, che è ben distante dal centro abitato della frazione di Polvica, quindi secondo noi è un'area che ben si presta per la realizzazione del carcere senza che porti alcun documento a quella che è la vita quotidiana svolta dai cittadini. Inoltre è un carcere sperimentale, infatti non avrà le mura di scinta. Sarà un carcere dove sconteranno la pena quelli che dovranno essere prontamente inseriti in società. Un incendio nella notte tra giovedì e venerdì ha distrutto a Napoli il tempio buddista più grande d'Europa. Si contano danni per un milione. Ben 18 anni per costruirlo, è bastata una notte per distruggerlo. Dopo solo sei mesi di vita va a fuoco il centro buddista in via Giuseppe Tommasi di Lampedusa a Napoli, il più grande d'Europa. Un incendio la notte tra giovedì e venerdì lo ha ridotto in cenere. Nessun dolo, nessuno scontro di religioni, ma una storia di accoglienza, povertà, disagio in cui le religioni si aiutano a vicenda. Sì perché l'incendio si è propagato dalla baracca di un ragazzo musulmano che abitava dietro il tempio e che i monaci aiutavano. Vincendo le spalle del tempio buddista vivono un uomo apricano che lui mentre cucinando il tempio era la nostra casa dicono abbiamo aspettato tanto per costruirlo e ognuno ha dato quello che aveva. Ora la comunità buddista lancia un appello al comune. Aiutateci a ricostruire la nostra casa. Fa un appello. Disse che, specialmente con il sindaco di Napoli, chiedono che magari se noi possiamo avere un posto, un altro posto, oppure aiutare per ricostruire questo tempio buddista. Spacciava la droga nel suo bar. È stato arrestato un 52enne titolare di un bar situato al centro di Avellino. Gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato un panetto di hashish nascosto sotto il registratore di cassa, bustine per l'imballaggio, due bilancini di precisione, un grosso coltello intriso di sostanza stupefacente e un caricatore privo di proiettili. La perquisizione è continuata all'interno dell'abitazione dell'uomo dove sono stati rinvenuti altri due pezzi di hashish, due bilancini di precisione ed altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. La perquisizione è stata successiva ad una segnalazione telefonica. A conclusione degli accertamenti di rito, l'uomo è stato associato presso la locale casa circondariale. Una sala consigliare nuova di Zecca? Forse troppo. A San Pietro, Altanagro, in provincia di Salerno, sono stati spesi oltre 22 mila euro per l'acquisto delle poltrone per i consiglieri comunali. E in paese scoppia la polemica. Sentiamo Giovanni Battista Lanzilli. San Pietro, Altanagro, è un piccolo centro della provincia di Salerno. Con i suoi 1.700 abitanti, raramente finisce all'attenzione delle cronache. Ma stavolta un provvedimento dell'area tecnica del comune ha scatenato un vero e proprio putiferio. In tempi di magre e di soldi che scarseggiano per tutti, dagli enti figurarsi per le famiglie, l'amministrazione cittadina ha pensato bene di spendere uno sproposito per arredare la nuova sala consigliare del comune. Un piccolo gioiellino, per carità, ma forse un po' di buonsenso, non avrebbe guastato. La determina numero 71 del 2 maggio sottolinea il pagamento di 14.000 euro più IVA per altrettante poltrone Frau. Ma, si sa, in democrazia c'è sempre qualcuno più uguale degli altri. E allora, nella stessa fornitura, si aggiungono altre due poltrone presidenziali, sempre marca Frau. Il tutto, per la modica cifra, si fa per dire, di 4.500 euro. Avete capito bene? Quasi 9 milioni delle vecchie lire per due postazioni belle e comode, forse adatte più ad un re che ad un amministratore dei tempi nostri. Ma tant'è. L'investimento, quantomeno azzardato per un totale che supera i 22.000 euro, ha suscitato un vespaio di polemiche a non finire, tanto che sull'albo pretorio del comune l'atto è stato frettolosamente rimosso. Resta però lo sconcerto per una decisione francamente inopportuna. Nessuno mette in dubbio la qualità del lavoro degli amministratori di San Pietro Altanagro, né la necessità di poter accomodarsi su una poltrona comoda durante il lavoro consigliare, a patto, appunto, che siano solo comode e non certo superlusso. È stato bloccato a Napoli mentre si stava sottoponendo alla dialisi in una nota clinica del capoluogo partenopeo. Luca Accetta, arrestato dalla squadra mobile di Benevento, è ritenuto l'autore di una serie di truffe ai danni di anziani nel capoluogo Sannita. Al 42enne residente a Napoli, pluripregiudicato e con precedenti specifici a carico, sono stati ricondotti almeno sei episodi, una rapina e cinque truffe ad anziani, tra tentate e riuscite attuate tra gennaio ed aprile di quest'anno. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Benevento, Gelsomina Palmieri, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Capodimonte. Restiamo nel Sannio, è in marcia a 60 km sulla Telesina. Stamattina la manifestazione di protesta da parte di una trentina di automobilisti che hanno percorso l'arteria fino a Telese, rispettando il limite di velocità che considerano troppo basso. Andrea Caruso. Un serpentone di macchine per protestare contro quello che ironicamente gli organizzatori hanno definito come limite di lentezza più che di velocità. Una trentina le auto che dalla rotonda dei pentri di Benevento hanno sfilato a 60 km orari, limite attualmente vigente sulla Telese Cajanello, fino allo svincolo della città termale. Una manifestazione nata spontaneamente per iniziativa di privati cittadini e poi pubblicizzata attraverso il megafono di Facebook. Benevento Cajanello è cosa fatta, come titolavano vent'anni fa i giornali riprendendo le dichiarazioni trionfanti dei politici che promettevano il raddoppio della statale. Aspettative deluse e ridimensionate per gli aspettativi sanniti. Adesso invece ci si accontenterebbe anche di un limite di velocità che non sia di poco superiore a quello in vigore nei centri abitati, di un manto stradale degno di un'arteria a scorrimento veloce e un controllo sugli odiati autovelox. Gli unici momenti in cui si vede qualcosa da topi accedere in occasione di grandi eventi, come per esempio il Giro d'Italia, infatti da qualche giorno se avete potuto notare, tra Ponte e Telese, se non sbaglio, stanno facendo dei rattoppi, però anche dei rattoppi. Quindi ci dovremmo augurare che il Giro d'Italia passi ogni settimana per avere una manutenzione delle strade più corretta. È inutile limitare la velocità se non si aumenta la sicurezza e questa può essere fatta indipendentemente da ampliamenti o altro che vengono di tempo per tempo paventati. È stato sempre uno schifo, totalmente. Gli autisti si lamentavano, qualcuno si andava per Napoli per risparmiare le multe, per le botte scoppiavano le gomme e anche noi con la ristorazione abbiamo diminuito il lavoro, finché abbiamo deciso di lasciare. Non ci è convenuto più rimanere. In tutti i modi è vergognoso quella strada. Affidiamo alla Madonna di Fatima tutte le sofferenze degli ammalati e quelle del mondo intero. Una fiaccolata di speranza ad Ariano Irpino, come sempre molto toccante e partecipata, una sorta di abbraccio in un girotondo simbolico intorno all'ospedale Sant'Ottone Frangipani. Alla processione insieme al parroco Don Alberto Lucarelli ha preso parte per la prima volta sul Trecolle, il vescovo Sergio Melillo. La suggestiva fiaccolata è partita dal santuario Mariano Diocesano di Piano di Zona, attraversando Rione San Pietro per poi giungere nel luogo della sofferenza di Via Maddalena. Una preghiera è stata rivolta anche ai familiari dei degenti, a tutto il personale sanitario che opera ogni giorno con grande dedizione e amore accanto agli ammalati e a quanti vivono nelle proprie case il calvario della malattia. Va bene, con questa notizia finisce il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, non cambiate canale perché adesso arriva la pagina dello sport. Arrivederci.